Noi sono presto a prendere un po' di più. Dio, dio, dio! Noi sono presto a prendere un po' di più. Non mi passa a prendere un po' di più. Ho visto un po' di più. Signor, ho avuto un vero. Discusi, non mi sono stati a prendere un po' di più. E dissi, la vol firewall che l'è scellinga è a vostra. Ci calchia a fa? Volevo fare un po' di più. E sì, però sono un po' così. Ma che mi voglio entrare? Quando vi ho visto, credetemi, non sono scoppiato a piangere solo perché miか49. Se volete, tanti anni solo, senza nessuno, senza un parente, che potesse rendire le mie pene, calmare i miei dolori. Quei dolori? Quei dolori? Sì, che domanda mi fate? Come quei dolori? Perdetti mia madre. E poi perdetti mio padre. E poi perdetti mio padre. E poi perdetti mio padre. Se ne è scappato, e se capisci che se ne è scappato, e ho fatto pure se ne è scappato. Ci chiede la stampetta, perché diciamo se ne volevo fare. Se non lo so, non c'è già una volta l'omani. E ti tratti a quanto c'è, una volta l'animo e l'oltre. E' scoperto mia per la santa. Ah, non si non c'è mai. Perché non c'è mai. Quella è un'opera sorprendente. Un'opera costata. Ah, questo non lo nego, eh, non lo nego. Ma a me non piace. Non mi piace. Non mi piace. Eh, non lo piace. Se volete, dico, non so qua. Ah, ma per esempio. Un cuoco, te la c'è poi? Non mi piace. Ma non mi piace da scrivere a casa, vall'asca. Ma come a casa? E non faccio? Ah, non c'è? Non c'è? Non c'è? Non c'è?